Sono Sirio, ho 27 anni e vengo da Milano. Prima lavoravo come magazziniere, adesso ho deciso di lasciare tutto e partire per il viaggio del mondo a piedi. Camminare io lo trovo estremamente rilassante e ti immerge in te stesso. Sono un po' una testa calda, quindi appunto prendo decisioni che poi faccio in un giro di due giorni senza pensare. Perché voglio farlo, lo faccio, boh! Sono Stefania, ho 28 anni, arrivo da Alba e attualmente faccio l'operaia. Non so se sarà il lavoro della mia vita, continuo a coltivare la passione per i viaggi e per la moda. Ho avuto una storia lunga e importante di 5 anni. Sono single da 3 anni. Sono Elisa, ho 34 anni e vengo da Roma e lavoro nel turismo. Cosa faccio? Ho un lavoro bellissimo perché mi permette di unire anche una passione che è viaggiare. Ho la fortuna di andare a vedere degli hotel di lusso bellissimi. I miei amici mi chiamano la ragazza con la valigia sempre pronta. Io mi piaccio fisicamente, mi piaccio. Sarò piccolina però, ho tutte le forme al suo posto. Io faccio solo colori perché è una cosa che mi dà una soddisfazione infinita, rendere una donna felice. Il biondo come lo faccio io non lo fa nessuno, adesso non mi far peccare di presunzione. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Alessandro. Piacere, David. Che bel sorriso. Grazie. È il primo del tavolo, l'accompagno al bar. Grazie. Io sono single perché non riesco a trovare una ragazza semplice. Sono Edoardo, ho 25 anni, vengo da Mantua. Mi occupo di moda, precisamente faccio il fashion editor per una rivista che ha sede a Milano. Una delle mie più grandi passioni è quella di fare a maglia. Non posso progettare un maglione o comunque un capo in maglieria senza sapere come si costruisce una maglia. Sono single da tre anni ormai, sì. Sono single perché ho un carattere di merda. Sono Lorenzo, vengo da Milano e ho 25 anni. Sono uno studente di medicina dell'ultimo anno. Mi mancano un paio di esami da tesi. Ho deciso di fare medicina già da quando ero piccolo. Ho anche foto mie di quando ero piccolo con il camice del dottore. Ho 38 anni, vengo da Milano e faccio l'avvocato. Sono nata a Napoli. Una volta che mi sono laureata, ho scelto così, all'improvviso. Vabbè, io vado a Milano, parlando ovviamente col mio ex fidanzato, dicendo va bene, io vengo perché lui viveva a Milano. Sono Maurizio, ho 42 anni, sono napoletano e lavoro come broker per una multinazionale a Milano. Grazie. 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 Grazie.